un po' sto anch'io tenendo la barca ferma perché hai fatto così? perché così impari a scuffiare ho pescato sulla vela se ero cinquanta, cento come dici il pound in italiano? come? cinquanta centocinquanta libri c'erano centocinquanta libri rompo quello? no, non la rompo, vai 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 poggia poggia c'era un cartello? vai